Ora, continuiamo il nostro lavoro sui generics, vedendo due cose. A, come si definisce una funzione normale, non solo un arrow function, perché vi ho fatto vedere solo come si definiva un generics su un arrow function, non su una funzione normale, come è fatto banalmente, come è fatto nell'esempio, ma andiamo a ripetere quel tipo di scrittura e ci scriviamo la nostra function identity 3. Utilizziamo il completatore questa volta che ritorna, che diventa un pochino più semplice. E quello che si va a fare rispetto all'arrow, diciamo che è praticamente quasi uguale, abbiamo subito in chiusura della funzione classica appunto l'apertura delle parentesi angolari e poi il resto del corpo comunque è abbastanza semplice, mentre all'interno di un arrow function abbiamo dopo l'uguale la scrittura di quello che è appunto il nostro generico e poi il ritorno prima appunto di avere l'utilizzo dell'arrow. In questo caso abbiamo il ritorno prima dell'apertura delle parentesi. Quindi questo è come si definisce un generico su una funzione classica. Andiamo ora a vedere alcuni problemi che ci sono con i generics e come possiamo andare a utilizzarli al meglio per appunto alcune casistiche dove dobbiamo essere un pochino più specifici. Facciamo l'esempio di voler utilizzare quelli che sono i nostri array. Quindi avremo la nostra function IDEN.TTARRAY in cui avremo il nostro appunto type, utilizziamo un po' la scrittura contratta di T, in cui avremo quello che è il nostro argomento, che è un appunto e dice ok. si prende il type di cui ho bisogno, va a ritornare il type di cui ho bisogno e in questo caso poi dopo ritorna il mio type. Perfetto, ci siamo, tutto a posto. Quindi in questo caso se io gli passassi un bel array, no, lui comunque potrebbe funzionare. Quindi se io passassi a let, chiamo a solo var, gli passassi identity, dai, identity array, ecco che non ho scritto identity, identity, e tutto quanto sembra funzionare perfettamente. Io in questo punto mi ritrovo con, come elemento ritornato, un bel array di numeri come previsto. Ma se io all'interno del corpo della mia funzione volessi provare anche solo a fare un controllo, if arg.length è maggiore di zero. Ecco, se io volessi fare anche solo questo controllo, mi ritroverei col fatto che length non esiste sul tipo di t. Insomma, uno può andare a consologare questo valore. Qua abbiamo un altro problema. Il problema qual è? È che non esiste il tipo di, la proprietà length sul mio array. Ma come non esiste? Sugli array length esiste sempre. Non esiste perché ovviamente esiste e tutto funzionerebbe in JavaScript. Sarebbe tutto corretto, non ci sarebbe nessun problema se gli passassi con un array. Però lui non sa qua che tipo di oggetto, che tipo di dato gli arriverà. Quindi potrebbe essere una stringa, un numero. Quindi è giusto che lui non sappia cosa stia succedendo. Qua la soluzione, la soluzione è andare a dire che l'argomento con cui lavorerò sarà un array, quindi t array. Classica scrittura appunto di un array e lui in questo caso ritornerà t. Cosa vuol dire che ritorna t? Vuol dire che ritorna un unico elemento del mio array. Quindi io gli vado a mettere qua 0. In questo caso tutto sta funzionando. Lui come ritornerà a sua volta, però un numero, non un array. Questa scrittura, se volessi ritornare appunto un array, io dovrei appunto andare a ritornare qua direttamente il mio argomento. Magari vado a fare, non so, dot, filter, filter, tolgo tutti quelli che sono di passo, poi boolean, in questo modo tutti gli elementi appunto che sono, comunque sono tutti gli elementi che saranno a 0 perché il nostro array di numere comunque che sono null verranno poi eliminati. Avrò un array senza null, undefined, 0 e quant'altro. E posso andare appunto a fare questo tipo di operazione. Occhio appunto a questa scrittura. Non confondetevi, questa dichiarazione, altro non vuol dire che io sto dichiarando un generico. Vuol dire che il primo parametro che passerò sarà utilizzato come generico. Che tipo di parametro esso sia lo vado a definire appunto nell'argomento. L'argomento quindi sarà un array di questi generici. Sta lavorando con un array. E ritornerà un array o il singolo elemento. In questo modo quando vado a lavorare con il mio array so benissimo che esiste la proprietà length e posso fare i miei controlli e poi giocare con quello che oggettivamente voglio. Ok? Molto molto importante questo concetto.